benvenuti a una nuova puntata di il dr penis oggi ci scrive francesco da milano e ci fa una domanda sulle protesi peniene ci dice leggo spesso in internet la possibilità di effettuare un impianto di protesi idraulica o malleabile per risolvere il problema del deficit erettile ci sono tantissimi medici che dicono di avere una grande esperienza una grande competenza come posso orientarmi e capire dove effettuare questo tipo di chirurgia beh francesco noi ovviamente parliamo della nostra esperienza noi siamo un centro di riferimento internazionale effettuiamo questo tipo di chirurgia in modo rutinario e quindi abbiamo la possibilità di avere dei volumi quindi dei numeri molto alti di impianti di protesi quello che va chiesto al chirurgo impiantatore oltre all'aspetto tecnico finale perché bisogna spiegare molto bene quella che sarà la lunghezza del pene quella che sarà la sensibilità del pene quello che sarà il risultato estetico dove saranno nascosti i tubi che collegano l'impianto protesico noi facciamo anche di più addirittura facciamo parlare i nostri vecchi pazienti già impiantati con i nuovi pazienti per avere un confronto perché poi quello che il chirurgo dice quello che il medico dice è tante volte non corrispondente a quello che il paziente realmente ha provato sulla propria pelle però rispondendo alla tua domanda in modo dettagliato e preciso quello che devi sapere è che quando viene effettuato un impianto di protesi viene rilasciato un certificato un certificato sia al paziente sia al medico un certificato che praticamente codifica quel tipo di impianto protesico cioè quella protesi appartiene a tizio quella protesi appartiene a caio e il medico che ha impiantato quella protesi è il dottor tal dei tali questo per farti capire che chi ha una grande esperienza ha anche tante tante certificazioni quindi quello che puoi fare quando ti rivolgi a un medico impiantatore è chiedere quale sia ovviamente la sua esperienza farti spiegare bene quello che sarà il risultato ma soprattutto farti dire quanti impianti ha effettuato negli ultimi dieci anni diventa molto importante perché questa chirurgia come tutte le chirurgie ha bisogno di una ripetitività nel tempo cioè codificare i passaggi mettere a punto i passaggi tecnici permette almeno nel nostro nella nostra esperienza di ridurre nettamente i tempi chirurgici in sala operatoria e automaticamente diminuire i rischi di infezione noi siamo riusciti a codificare con una tecnica chirurgica un impianto di protesi in circa 15 20 minuti io vedo in giro dei pazienti leggendo i referti clinici che effettuano lo stesso tipo di intervento in un'ora e mezza o due ore è ovvio che il tempo diventa determinante chi è che impiega più tempo ad impiantare una protesi chi non ha questo volume chi non ha questa routine chirurgica quindi ogni volta effettua un impianto come se fosse la prima volta e quindi questo può a discapito del paziente determinare grandi grandi rischi non solo in termini di risultato estetico perché poi avere le idee chiare permette di ottenere un risultato estetico migliore possibile di mascherare perfettamente la protesi ma soprattutto di evitare il rischio di infezione anche perché se una protesi si infetta bisogna subito prontamente andarla a rimuovere questo comporterà tutta una serie di effetti collaterali sui corpi cavernosi una riduzione del volume del calibro della lunghezza dei corpi cavernosi che diventeranno fibrotici andare poi effettuare un nuovo impianto non sarà una cosa molto molto agevole quindi quello che puoi chiedere al medico che ti impianterà una protesi e mi fa vedere la sua certificazione mi fa vedere quanti impianti ha effettuato negli ultimi dieci anni beh se quel medico ha la certezza e la sicurezza di mostrarti quanti impianti ha effettuato con queste certificazioni già questo è un punto di partenza molto buono se quel medico si rifiuta o non ti vuole dire quanti impianti ha effettuato oppure in modo aleatorio dice ho effettuato tantissimi impianti beh questo non è un buon punto di partenza quindi spero di aver risposto alla tua domanda invito tutti quanti a inviare le proprie domande all'indirizzo email in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di dr penis